Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vorrei dire due o tre concetti, prima di passare la parola al moderatore e ai nostri relatori, relativamente all'ambizione di questo programma, un manifesto del ventunesimo secolo, che può prendere le mosse, come è sempre avvenuto nei tornanti della storia, da un nuovo pensiero, un nuovo pensiero che legge e interpreta il mondo di oggi. Un pensiero che ci viene proposto da qualche decennio, ma ci viene proposto da una sfera di economisti di sinistra, ci viene proposto da un campo intellettuale che non disarma, ma che non ha ancora la sua traduzione nella forma politica coerente. Perché nel secolo scorso il pensiero ha trovato poi sempre la sua traduzione politica. Oggi è ancora sospeso. E il pensiero è un pensiero critico di quella che possiamo, adottando la definizione universale di Prodi, nei confronti della globalizzazione senza disciplina. Questo pensiero, relativamente ai risvolti non positivi della liberalizzazione dei commerci, dei beni, non è stato interpretato per tempo dalla politica. Se posso testimoniare, argomentare, quella che considero un'epoca di crisi, di un modello, io lo attribuisco innanzitutto al fascino esagerato che nella famiglia socialista ha avuto appunto l'idea delle sorti magnifiche e progressive della globalizzazione. Se, come ha fatto anche per un accenno Spini, la domanda è, dopo la caduta del muro di Berlino e il crollo di un altro sistema, perché naturaliter non si è affermata la componente che ha vinto storicamente sul comunismo statale? Se la domanda è questa, la mia modesta risposta è perché quei valori, quella regolazione che aveva fatto le fortune della sinistra nel mondo e che aveva coniugato mercato e fini sociali, non ha colto che la dimensione nazionale era letteralmente spiazzata dalla nuova dimensione del capitalismo finanziario. E che senza questo adeguamento della forma politica all'economia sovranazionale si andava incontro solo ai risultati, agli esiti negativi della globalizzazione senza disciplina. Eserciti di riserva di mano d'opera che le delocalizzazioni spostano da un paese all'altro e che mettono in dubbio anche le sicurezze, le protezioni sociali della stessa classe operai, dei lavoratori dipendenti, insieme alla diversificazione dell'universo sociale che la tecnologia propone. E dunque io penso, per esempio, che è una delle occasioni mancate per affermare dopo la crisi dei paesi dell'est quell'idee di cui abbiamo ascoltato orora la loro vitalità e quando al governo dell'Unione Europea c'erano 13 paesi di guida socialista su 15 le cui politiche sono rimaste sostanzialmente in ambito nazionale. Primo elemento di mia riflessione. Secondo, noi abbiamo vissuto personalmente e proprio in modo diretto come una vittoria storica della democrazia il processo di allargamento ai paesi dell'est come unico esempio di democrazia sovranazionale e non abbiamo colto in tempo che questa estensione per contagio delle forme democratiche elezioni, diritto di parole eccetera doveva essere accompagnata da un'altra funzione che, diciamo, il pensiero e l'azione socialista aveva coniugato la regolazione dei processi di accumulazione la destinazione della ricchezza accumulata perché siccome questa, con la crisi fiscale dello Stato nazionale non poteva più avvenire in un ambito nazionale la famiglia socialista ha esitato a porre il problema di una riforma dell'Unione Europea che assumesse a livello sovranazionale nuovi compiti e nuovi fini non posso dilungarmi oltre perché travalicherei il compito che mi è stato assegnato ma io penso che questo rimane ancora davanti a noi la vitalità di quelle idee può essere rilanciata oggi che si assiste all'illusione ottica del superamento destra-sinistra per riproporre la coppia sovranismo-globalizzazione noi possiamo interpretare, secondo me, nuovamente quei bisogni se esercitiamo una funzione soprattutto a livello di riforma dell'Unione Europea e se quella funzione restituisce identità e forza attrattiva a quei valori naturalmente, e chiudo io penso anche che quando si dice riforma dell'Unione Europea si deve superare l'ottica eurocentrica in un mondo globale che ha spostato gli assi di riferimento e quando si dice questo si deve andare oltre la geometria istituzionale si parla di doppia velocità si parla di sovranità condivisa per legare strettamente grandi obiettivi che parlano alla condizione reale uno di questi è, diciamo così, la bussola della sostenibilità la sostenibilità nell'impatto ambientale di certe attività industriali ed umane la sostenibilità come principio di benessere e di convivenza comunitaria e l'altra cosa, secondo me, importante e fondamentale naturalmente ve ne sono altre ma io a questo credo molto è che se questo manifesto ha un destino questo destino è nel fatto che divengono protagonisti di queste nuove idee o di queste idee rinnovate le nuove generazioni le nuove generazioni che la rivoluzione tecnologica la disoccupazione della robotica tende a marginalizzare a deprivare del loro destino per l'appunto e quindi qui, diciamo, torna in termini assolutamente nuovi il tema del lavoro come dignità della persona perché bisogna misurarsi con un tasso di disoccupazione che la tecnologia propone e che non sempre la riconversione dell'economia riuscirà ad assorbire ma giacché anche da qui nasce la necessità dell'intervento pubblico perché devi creare lavoro con un investimento selettivo ho letto una recensione all'ultimo libro di Mazzucato ruolo pubblico da reclamare ma per investimenti selettivi non si può dire solo piccola e media impresa perché sono il motore, per esempio, dell'economia italiana se l'investimento pubblico non viene finalizzato ad imprese che accettano la sfida dell'innovazione di creazione di valore aggiunto quindi, diciamo, certo l'intervento pubblico ad alimentare i meccanismi della produzione dell'accumulazione della ricchezza ma se c'è un margine di perdenti che non avranno ancora opportunità che riclamano un tipo di intervento pubblico complementare anche qui la crisi fiscale degli stati nazionali presuppone la condivisione di questo intervento pubblico a livello sovranazionale penso che questa sia la prospettiva inaluttabile se vogliamo che quella combinazione di tensione verso l'uguaglianza e fine della libertà dell'individuo possa essere inverata anche nel XX secolo mi taccio e passo la parola al nostro moderatore grazie Sì, buonasera a tutti innanzitutto lo diceva il presidente Mastroleo nella sua introduzione questa tavola rotonda si pone in un rapporto di continuità con la relazione articolata brillante come sempre stimolante che Valdo Spini ci ha tenuto sulla storia su un pezzo importante di storia della tradizione socialista del nostro paese ma Valdo ha avuto come sempre anche la capacità di proiettare questa analisi storica dentro un orizzonte dinamico in una dimensione processuale quindi ha già egli posto sul tavolo alcuni temi che appunto i presenti attorno a questo tavolo non possono non raccogliere e allora il mio è un compito molto limitato dovrò svolgere purtroppo una funzione antipatica quella di contenere i tempi una funzione fondamentalmente repressiva perché a mia volta la regia mi ha dato un target orario molto definito però credo che sia doveroso innanzitutto procedere ad una presentazione degli interventori Enzo Lavarra si è già presentato da solo lo conosciamo tutti è stato nostro europarlamentare e in qualche modo le cose che ha detto sono al tempo stesso un'introduzione ma per certi versi anche una sorta di conclusione sia pur anticipata dell'oggetto di questa tavola rotonda il professor Salvatore Biasco credo noto a noi studiosi per i numerosissimi libri che ha scritto su tematiche di carattere economico ma questa è un po' una sua peculiarità una peculiarità che appartiene alla migliore tradizione degli economisti ma che da ultimo sembra essersi un po' persa la capacità di andare al di là del suo specialismo per intrecciare l'analisi economica con l'analisi dei processi sociali e anche diciamo delle dinamiche politiche che interagiscono sui fatti economici è stato presidente nella tredicesima legislatura della commissione bicamerale per le riforme fiscali non cito tutta la sua bibliografia se no il tempo già sarebbe esaurito mi piace ricordare soltanto l'ultimo testo almeno l'ultimo che io ho letto del collega Viasco regole, stato ed eguaglianza che ha un sottotitolo particolarmente significativo la posta in gioco nella cultura della sinistra e del nuovo capitalismo Michael Brown credo che sia noto ai più se non altro perché è spesso ospite di interventore di accorsate trasmissioni televisive da ultimo l'abbiamo visto l'altra sera dalla Grubera a otto e mezzo che discutì non c'eri tu allora ospite comunque di trasmissioni televisive nelle quali ha illustrato le dimensioni e i problemi diciamo del rapporto tra la socialdemocrazia europea in particolare la socialdemocrazia tedesca oltre ad essere un osservatore attento delle cose italiane anche di Michael Brown mi piace citare l'ultimo suo libro Mutti Angela Merkel spiegata agli italiani edito dalla terza e infine last but not least il mio vecchio amico Mario Fistetti Mario per gli amici perché ha l'anagrafe Francesco il quale è credo noto alla platea se non altro per essere da molto tempo ordinario di filosofia nella nostra università di Bari ma soprattutto per essere un osservatore attento di cose politiche e soprattutto un pensatore originale se non altro abbiamo in comune un pezzo di storia sia accademica e sia di militanza politica ecco detto questo io direi senz'altro di entrare in medias res e lo farei partendo da un'osservazione lo richiamava poc'anzi Enzo alla metà degli anni 90 in Europa i partiti socialisti socialdemocratici laboristi erano al governo in 13 paesi su 15 a distanza di un ventennio o poco più noi ci troviamo invece di fronte ad una situazione tale per cui il partito socialista francese ma anche il partito socialista olandese è ridotto a poco più che un ruolo di testimonianza dal punto di vista numerico il partito socialista greco il partito socialista spagnolo sono fortemente ridimensionati a vantaggio di altri soggetti che hanno occupato la sinistra della scena politica da Siriza in Grecia a Podemos in Spagna la stessa socialdemocrazia tedesca è in una posizione sì di governo ma diciamo sostanzialmente in una posizione diciamo di collaborazione subalterna rispetto alla politica della Merkel il laborismo inglese nonostante la ripresa di Corbyn non è certamente più almeno finora una forza capace di modificare di riprendere il governo del paese e allora ecco una prima domanda secondo me una prima riflessione che si impone è questa che cosa è accaduto nel corso di questi ultimi vent'anni per far sì che il sole del socialismo da aver disegnato una traiettoria ascendente in qualche modo rischio perlomeno dall'impressione di essersi avviato nella sua fase discendente in una sorta di fase crepuscolare è soltanto un esito del destino cinico e baro oppure vi è come io ritengo vi sia qualcosa di ben più sostanziale alla base di questa traiettoria traiettoria negativa col consenso dei presenti chiederei al professor Biasco di avviare questa riflessione facciamo una decina di minuti per interventi e poi magari una breve replica perché dobbiamo chiudere mi viene detto entro le 20 e 30 bene il presidente è più generoso prima di tutto io vorrei ringraziare per essere qui e ringraziare soprattutto Gianvito Mastroleo perché insomma è l'animatore dei confronti e di una riflessione che tiene in vita diciamo un pensiero critico una domanda e via discorrendo e parto penso strettamente dalla domanda che mi è stata fatta che cosa è successo ovviamente è un misto di condizioni oggettive e di cedimento diciamo elaborativo intellettuale le condizioni oggettive hanno tutte remato contro la sinistra lo sfrangiamento della società la dominio della finanza il la frantumazione del lavoro no? il decentramento la tecnologia che in qualche modo ha ridotto numericamente e ha cambiato qualitativamente e ha differenziato il lavoro all'interno è mutato la soggettività delle persone verso un maggiore individualismo e proprio però di fronte a questo mutamento alla sinistra non è riuscita a dare una interpretazione ha avuto un'interpretazione diciamo a destra una rappresentazione a destra non ha avuto una rappresentazione a sinistra poco a poco secondo me la sinistra si è convinta sia nel nostro paese come in altri che la critica liberale in qualche modo in qualche punto coglieva nel senso eccessiva burocratizzazione inefficienza della macchina pubblica ovviamente c'è stato uno sparo ad alzo zero su piccole verità e la sinistra non è riuscita a distinguere a distinguere ciò che doveva una sua capacità di chiamiamola modernamento di venire a termini con i mutamenti della situazione con la resistenza culturale io dico ci poteva essere anche la necessità di qualche liberalizzazione però non necessitava che si assumesse con l'orizzonte ci poteva essere la necessità di qualche sburocratizzazione anche forse di alleggerire la macchina statale però non necessitava che si assumesse tutto l'apparato di diciamo di diffidenza verso l'intervento statale la necessità del ritiro dello Stato da molti elementi compreso o comprese elementi della della del del patto di cittadinanza faccio un esempio i servizi sociali sono parte della cittadinanza se noi consideriamo le imprese che producono servizi sociali che ovviamente dovranno produrlo in termini di efficienza come parte come come imprese come tutte le altre che devono creare valore e non hanno più un criterio di efficienza pubblica che è un criterio di pluri di pluri obiettivi insomma ovviamente stiamo operando un arretramento poi c'è stato un arretramento sul welfare ma quello che se noi prendiamo proprio l'esempio che è stato portato i 13 paesi i 13 governi socialisti che si trovano a un certo punto insieme e che ovviamente potrebbero imprimere una svolta all'Europa che cosa producono producono l'agenda di Lisbona l'agenda di Lisbona è un decalogo di azioni sull'idea dell'economia dell'offerta sono affascinati diciamo da quella che allora sembrava il modello vincente di società liberale aperta che sono gli Stati Uniti e pensano che la rincorsa debba avvenire su quel terreno anche interpretando malissimo quello che avviene negli Stati Uniti e perché gli Stati Uniti sono un paese un paese dinamico ma che cosa era benedato lì che bisognava ormai l'idea è che bisognava soltanto agire dell'offerta non c'era altro che l'offerta ma l'offerta vuol dire due cose vuol dire delle cose molto importanti come possono essere istruzioni tecnologia ma possono dire e hanno detto anche stato leggero liberalizzazioni concorrenza ci si è convinti in qualche modo della virtù della concorrenza questo poi è avvenuto poi a poco a poco tutto si tiene si tiene perché la diffidenza verso lo Stato però fa sì che le parole d'ordine che si assumono autonomia e decentramento sono di fatto un ritiro dove hai bisogno di una governance non puoi avere 21 questo è il caso italiano 21 politiche industriali non puoi lasciare a se stesse le università non puoi lasciare a se stesse a se stesse o a scuola insomma è un tutt'uno che si è mischiato con una serie di problemi oggettivi perché poi noi avevamo anche un deficit pubblico un bilancio un debito pubblico come stock considerevole ovviamente eravamo molto soggetti allo scrutinio dei mercati internazionali sono avvenute varie cose sono avvenute che la sinistra in un certo momento ha smesso di governare di governare nel senso proprio del termine social democrazia aveva significato a suo tempo strutturare la società aveva significato a suo tempo che il mercato andava governando che il capitalismo era instabile che produceva differenziazioni di potere che solo la politica poteva contrastare ecco a un certo punto l'idea di introdurre che è finita per essere dominante che non c'era altra alternativa per rendere dinamica la società che è introdurre elementi elementi di mercato che non c'erano alternative possibili e alla fine è stata più una scorciatoia rispetto alla complessità della della società che va governata per spezzoni entrando nel merito scomponendo e ricomponendo quando un partito o i partiti della sinistra trasformano in partiti d'opinione cercano poi il consenso attraverso diciamo un appello ai cittadini fatto sulla base di quello che è il loro pensiero e la loro interpretazione della razionalità ma è un modo proprio per evitare per prendere quelle scorciatoie che evitano l'elaborazione evitano il pensiero evitano di entrare nel merito di situazioni complesse e questo a poco a poco è diventato il mantra è diventato il modo di essere della sinistra qui in Italia sono tavole inclinate cui possiamo non dare la responsabilità a persone specifiche a situazioni specifiche ma sono tavole inclinate che a poco a poco finiscono voi per portare in fondo oggi bisogna ripensare al socialismo di nuovo bisogna rivalutare questo termine bisogna ripensare a una cultura che vede nello spazio pubblico nelle soluzioni collettive mutualistiche adesso non si può entrare nel merito di quello che potrebbe essere che vede nel controllo e nei poteri controbilancianti all'interno dell'economia che vede diciamo nella politica industriale che è stata citata come un elemento per rendere più dinamica la società e anche pensarla nelle sue sviluppi futuri che sono sviluppi che saranno sfavorevoli al lavoro e nessuno sta in qualche modo entrando diciamo nel merito di quello che sarà necessario per costruirla e per mantenerla equilibrata saranno il dominio delle partaforme che non è una cosa piccola dove noi dobbiamo dobbiamo introdurre anche lì dei principi socialisti nel senso che le piattaforme devono essere aperte possono essere rimunerate possono essere anche proprietarie ma rimunerate solo per la produttività che aumentano e non per altro e abbiamo un problema di ricostruire delle identità collettive non è facile perché la società si è sfrangiata è diventata più atomizzata però io voglio poi chiudo voglio ricordare una cosa che innanzitutto costruzione di identità collettive è un compito della politica è un compito della politica che le identità non si fotografano ma le identità si costruiscono quando la la pratica del socialismo l'idea del socialismo si si mise in cammino nel all'inizio a metà dell'ottocento ma mica esisteva il proletariato esisteva una società fatta di di seropi fatta di che c'erano braccianti o contadini la classe operaia eppure eppure si è costruito un processo di identificazione delle figure l'una con l'altra della capacità di condurre le proprie situazioni personali a un meccanismo della società che oggi bisogna riconquistare come terreno e poi la pratica stessa del socialismo ha creato delle identità ha creato motivazioni eccetera quindi un processo da ricostruire difficilissimo passa attraverso tanti elementi ma nella società italiana ha anche degli elementi del socialismo interno ha elementi inconsci anche pensiamo a tutti coloro che si spendono nella società per altri per la cosa pubblica per dotare di diritti chi non ce l'ha eccetera eccetera è tutto un mondo che inconsciamente esprime una idealità diversa che però è orfano della politica è orfano della politica perché l'insieme di queste esperienze che a volte sono anche fortemente conflittuali non vengono raccolte né amalgamate voi pensate che cosa sarebbe successo nelle lotte di fabbrica non so gli anni 50 60 se fossero state tutte lotte di fabbrica non raccordate senza un partito che se ne possesse esiste pezzi di socialismo anche nello spendersi per la per la cosa pubblica io a suo tempo ero deputato di Modena dove per esempio le polisportive erano costruite con una particolare 150 mila ore di lavoro volontario ed era diventata una struttura che in un'altra sede sarebbe stata di lusso dove lì invece le persone le persone un intero quartiere viveva fuori di casa ecco tutte queste possibilità collettive vanno riprese di amalgamazione di amalgama della società forme mutualistiche forme cooperative gestione gestione di beni pubblici da parte di comitati cittadini ne possiamo inventare tante ma tutte che danno un'idea di una società di una società cooperativa però questo non basta perché è vero che c'è nella storia del socialismo Turati e come si chiama Gnocchiviani le due visioni la coscienza va portata dall'altro o il socialismo deve nascere dal basso attraverso l'auto organizzazione attraverso la costruzione di di insomma di istituzioni in cui la gente impara impara a fare da sé io penso che oggi ci sia necessità di tutte e due le cose sia imparare a fare da sé e quindi è anche bene che la politica sia soltanto abilitante ma c'è anche la necessità di simulare diciamo un governo che funzioni dando cioè l'orizzonte dentro il quale una diciamo militanti simpatizzanti eccetera eccetera possano muoversi e quello che funziona è il governo che affida alla alla cosa pubblica i i rischi che non sono che non sono assicurabili altrimenti cioè i diritti sociali che rende che accompagna i diritti sociali e i diritti civili e li rende anche più aperti che ristabilisce diciamo una bilanciamento nei rapporti di forza perché questa è stata sempre la vocazione del socialismo diciamo è stata una sfida interna del capitalismo è stata un elemento disfunzionale rispetto al capitalismo ecco riprendere questa idea ricostruire una democrazia economica dove democrazia economica vuol dire chiamare le imprese a una responsabilità sociale obbligarle a una responsabilità sociale partecipazione adesso insomma è inutile entrare nelle tecnicali di queste cose vuol dire ancora prendere come punto di riferimento le nuove generazioni nel senso che alle nuove generazioni va lasciato un capitale superiore una capacità rafforzata di beni collettivi che vuol dire investimenti ma questi investimenti oggi ci dobbiamo porre problemi serissimi di dove indirizzarli con quali strumenti ci dobbiamo il problema delle smart city dobbiamo uscire dall'auto in qualche modo dobbiamo dobbiamo diffondere la conoscenza salvare l'ambiente tutti elementi che presuppongono una nuova centralità dello Stato se siamo in grado di progettarlo anche questo diventano idee forza capacità di muovere la gente insomma però c'è bisogno di rimettere in campo un'idea di socialismo di società organizzata di società governata e questo è un compito importante che abbiamo grazie professor Biasco professor Biasco ha messo a fuoco un tema cruciale quello del rapporto fra Stato e mercato se si vuole fra politica ed economia fra governo ed economia lo ricordava Valdo Pocanzi paradossalmente il compromesso social democratico nasce sulla base dell'intuizione di due pensatori liberali che è Enes il quale scopre tra virgolette che il mercato da solo non è in grado di risolvere le sue contraddizioni per un insieme di ragioni e quindi vi è la necessità di una domanda aggiuntiva se no lo stesso capitale non può realizzare il suo plus valore e quindi il ciclo economico si blocca e per altro aspetto Lord Beveridge che coglie il fatto che a livello di riproduzione sociale non si può non riequilibrare quelle posizioni di partenza che ove rimanessero immutate determinerebbero una sorta di involuzione negativa dell'intera società e quindi un acquirsi del conflitto della disgregazione e così via ecco l'essere stati invece subalterni ad una visione per così dire salvifica del mercato il mercato di per sé avrebbe dovuto essere in grado di risolvere tutti i problemi credo che sia una delle ragioni come giustamente diceva il professor Biasco della crisi dei partiti socialisti laboristi socialdemocratici in una parola una forma di subalternità culturale che è una forma di subalternità anche a che cosa ad una modificazione antropologica dei soggetti della modernità nel senso che in parallelo con questi processi è andato avanti anche una sorta di lotta di classe sul terreno culturale che ha messo in discussione quella che era la scala valoriale della sinistra e quindi ha sostituito ha contrapposto e sostituito ai valori sui quali si era costruito il consenso della sinistra la cooperazione la collaborazione l'esigenza della eguaglianza ha contrapposto invece una diversa scala valoriale cioè ognuno deve essere artefice della sua fortuna ognuno deve avere la possibilità di giocare la sua carta magari poi uno su mille ce la fa però intanto gli altri 999 si illudono sia pure per lo spazio di un mattino di poter essere in campo e di poter competere ecco Mario le ragioni di questa subalternità una modifica anche antropologica tu dove le ravvedi sì grazie grazie a Gianvito Mastroleo alla fondazione per la iniziativa di commemorare di celebrare i fratelli Rosselli e di organizzare questa 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 tavola rotonda questo momento di riflessione io vorrei partire dall'introduzione di Valdo Spini sull'attualità del socialismo liberale attualità del socialismo liberale che tu ricorderai Gianvito noi fin dal 1995 quando rieditammo il nuovo risorgimento di Fiore appunto di di Tommaso Fiore e Vittore Fiore e con noi sottolineiamo con grande con grande forza e con grande vigore in tempi diciamo non sospetti in cui ancora questa accentuazione questo richiamo poteva suonare poteva suonare non gradito alle orecchie di molti della sinistra della sinistra del tempo e nel rieditare socialismo liberale insieme con De Luna e insieme con Antonio Leuzzi io diedi un titolo al mio saggio che era questo la tradizione nascosta della sinistra italiana riprendendo la tradizione nascosta riprendendo una una celebre espressione di Anna Arendt a proposito dell'ebraismo della tradizione nascosta dell'ebraismo che era un ebraismo che non faceva tutt'uno con l'ebraismo convenzionale quello appunto che porterà poi alla fondazione dello Stato di Israele ma era quello dei paria era quello dei grandi esiliati e in quel saggio scusatemi questa questa sorta di richiamo ma è puramente strumentale a quello che sto per dire in quel saggio mettevo in evidenza un filo di continuità profondo che legava appunto Gobetti e Gobetti Carlo Rosselli soprattutto del socialismo del socialismo liberale Calogero dei due manifesti del liberal socialismo e poi Tommaso Fiore con la sua riflessione sul sul mezzogiorno e sulla diciamo così sul socialismo sul socialismo democratico ora questa eredità è stata un'eredità senza testamento diciamo nel senso che non è stata raccolta da nessuno non ha avuto un testamento e non è stata raccolta da nessuno nella sinistra italiana eppure come ricordava a giusta ragione Valdospini avrebbe potuto figliare avrebbe potuto figliare diciamo così in simbiosi con la tradizione gramsciana in simbiosi con la tradizione con la tradizione liberale risorgimentale italiana avrebbe potuto figliare un'idea soprattutto via partito d'azione attraverso il medium del partito d'azione avrebbe potuto figliare una cultura politica e una religione civile che è mancata in Italia intendendo per religione civile un insieme di idee condivise sullo Stato sulla società sul governo sulla governamentalità in generale ora pur ritenendo che a quella tradizione come a quella gramsciana che io ritengo Valdo ancora tanto fertile dal punto di vista degli spunti euristici di analisi per la globalizzazione per quanto riguarda l'Occidente il rapporto nazionale internazionale sul terreno appunto dell'egemonia della società civile società politica e società civile ecco pur in questa prospettiva una sinistra italiana che purtroppo non c'è perché la sinistra italiana è esplosa da tempo e noi viviamo in questa sorta di vuoto assoluto di vuoto pneumatico dal punto di vista politico e di cultura politica e io credo però che quella tradizione vada ripresa e vada riformulata ridefinita alla luce di quelle che sono le grandi sfide del ventunesimo secolo e le grandi sfide del ventunesimo secolo a mio avviso tra le grandi sfide in primo luogo c'è questa presa d'atto di cui dobbiamo convincerci sul piano teorico metodologico culturale politico la presa d'atto che abbiamo assistito almeno dalla metà degli anni settanta dagli anni settanta del novecento ad oggi ad un passaggio epocale del capitalismo del modo di produzione capitalistico siamo passati da un capitalismo democratico da un capitalismo fondato sul compromesso socialdemocratico keynesiano del welfare state siamo passati ad un capitalismo speculativo e finanziario per cui questo passaggio di paradigma di paradigma è centrale è fondamentale per ricostruire oggi la sinistra e dentro la ricostruzione della sinistra ereditare mutuare quelle tradizioni perché la sinistra è plurale io ho sempre avuto un'idea plurale della sinistra mai monistica mai chiusa in sarcofaghi in comunicanti ma diciamo così in tradizioni interagenti anche conflittuali ma sempre interagenti e la prima e questo che cosa vuol dire se noi andiamo per un momento a fondo di questo passaggio circa questo passaggio di paradigma o di fase o di epoca come lo vogliamo chiamare e questo che cosa vuol dire vuol dire che l'immagine del mondo è cambiata cioè c'è un libro molto bello di Beck che è uscito da poi l'ultimo libro prima che lui morisse che si chiama la metamorfosi del mondo allora in questo libro Beck Ulrich Beck dice grande socialdemocratico grande diciamo interlocutato allievo di Habermas grande interlocutore della socialdemocrazia tedesca dice è cambiato il mondo e che vuol dire è cambiato il mondo abbiamo di fronte una sorta di rivoluzione copernicana cioè gli stati non sono più il centro dell'ordine politico internazionale anche se questo non significa che gli stati sono scomparsi ma la rivoluzione copernicana significa che c'è un ordine globale ormai cosmopolitico e pur rimanendo in piedi gli stati gli stati sono incardinati dentro questo ordine globale questo ordine internazionale a dominanza capitalistica e del capitalismo finanziario e speculativo di cui abbiamo detto abbiamo detto prima e allora ho letto questo bellissimo documento la riproposizione del socialismo oggi che è ricco di spunti dà tante indicazioni però come dire questa centralità della rivoluzione copernicana cioè il fatto che non possiamo più noi muoverci dentro un nazionalismo metodologico altro che sovranismo cioè il nazionalismo metodologico vuol dire che assumiamo lo stato come la spera in cui noi facciamo politica soltanto ma anche se assumiamo lo stato nazionale lo stato nazionale lo dobbiamo assumere però in un'ottica internazionale in un'ottica europea in un'ottica sovra in un'ottica sovranazionale perciò perciò come dire le due grandi questioni le due grandi questioni che io qui mi limito a porre come le sfide di una sinistra da ricostruire e di un socialismo rinnovato sono da una parte la questione ecologica e il fatto cioè che ormai siamo entrati in un'era che chiamano antropocene antropocene cioè è in gioco la sopravvivenza dell'umanità è in gioco la sopravvivenza del genere umano quindi non stiamo e col genere umano tutti gli organismi viventi tutta la vita tutta la vita sulla terra quindi questa è la è la prima questione è la prima questione la seconda questione che volevo che volevo richiamare è come noi facciamo fronte a questo mutamento di paradigma che è il capitalismo finanziario e qui naturalmente mi rifaccio a Polani a Car Polani della grande trasformazione quando Polani diceva il capitalismo ha questo movimento è mosso da questo impulso verso una riproduzione illimitata della sua logica cioè tende sempre di più ad appropriarsi dei mondi della vita delle sfere delle sfere della vita a introdurre della logica della merce della logica della finanza dentro tutti i settori della società per cui è inevitabile che sorgano dei contromovimenti delle resistenze e oggi il socialismo deve cominciare un socialismo rinnovato deve cominciare a censire queste resistenze che vuol dire censire il disagio sociale le sofferenze che vuol dire censire l'espulsione dai processi lavorativi e tutta una serie di contraddizioni chiamiamole così di contraddizioni che sono e vanno diventando sempre più esplosive perché fanno massa attorno a quello che noi chiamiamo populismo populismo oggi è il significante vuoto è la parola che riassume tutte queste esplosioni queste criticità rispetto a cui nella sinistra nella destra storica storicamente consolidate riescono a dare una una risposta intendo per destra le oligarchie dominanti e per sinistra quello che si spaccia per sinistra perché in Europa il tramonto dei partiti socialisti credo sia inarrestabile in Italia il mutamento genetico del vecchio PC in un partito di destra democratica di destra liberale e ormai credo soltanto Renzi lo nega soltanto Renzi può negare che ci sia questa questa metamorfosi negativa quindi il populismo non è altro che il bacino dentro cui dentro cui la frammentazione l'impoverimento la proletarizzazione la precarizzazione tutti questi processi che il capitalismo finanziario sta producendo a livello europeo e a livello mondiale e ci mette sotto gli occhi per cui io finisco dicendo gli elementi di socialismo gli elementi di socialismo alcuni li richiamava molto bene Biasco e mi riconosco quando parlava di una perché consuona quello che lui diceva con un testo molto bello per me di Onnet che si intitola socialismo si intitola socialismo Onnet dice dobbiamo ricostruire una comunità solidale dobbiamo partire da una comunità solidale poi ci mettiamo dentro tutto quello che vogliamo ma solidale è l'uno per l'altro solidale è un ruolo dell'azione pubblica dello Stato in settori strategici che sono i beni comuni come l'istruzione i trasporti la sanità il lavoro e così via cioè comparti comparti di forze produttive che non sono speculative che producono ricchezza materiale e che producono valore ricchezza perché qui nessuno è a priori contro il mercato ma dobbiamo ibridare la logica del mercato con l'azione pubblica in settori strategici con il terzo settore l'economia cooperativa e solidale soltanto se ci mettiamo al lavoro in questo cantiere e apriamo questo cantiere possiamo riaprire la pagina del socialismo in Italia altrimenti rimarrà soltanto retorica e rimarrà soltanto buona storiografia che noi dobbiamo continuare a fare per celebrare i fratelli Rosselli ma anche Calogero ma anche tutti tutti i Lombardi Togliatti Gramsci eccetera eccetera grazie grazie Mario credo che l'intervento di Mario non abbia bisogno di commenti perché ha messo a fuoco credo quello che è un po' il tema centrale il fatto cioè che la lotta di classe dall'alto che si è sviluppato nel corso di questi trent'anni ha rimercificato una serie di beni la salute l'istruzione che erano invece diventati diritti e quindi la necessità di invertire questa tendenza ecco detto questo a noi non so a voi a me almeno rimane sempre un dubbio cioè che in qualche modo questa lettura dei processi possa essere la lettura che viene fatta da un punto di vista che tutto sommato è marginale rispetto alla divisione internazionale del lavoro e che tende ad esserlo sempre di più sarebbe interessante vedere come queste contraddizioni vengono lette interpretate affrontate dai punti più alti e il punto più alto diciamo dello sviluppo capitalistico in Europa senza dubbio è la Germania ecco io chiederei a Michael Brown di mettere a fuoco questo comparando anche un po' l'esperienza tedesca rispetto alle tematiche e alle contraddizioni che sono emerse nel corso di questa stessa tavola rotonda possiamo dire che intanto l'Italia sarebbe comunque un caso a sé che qui dal 93 non esiste più un partito socialista degno di questo nome qua è imploso molto prima e le forze nate dopo le sue altre verse questo discutiamolo un'altra volta a parte che abbiamo qui una discussione che ci prenderà altre due ore comunque già nel 90-91 Chetto non a caso diceva che erano diciamo un po' andati a sbattere sia il comunismo reale che la socialdemocrazia e raccomandava come letture più che altro Popper ed Arndorf come grandi pensatori per dirvi agli albori del PDS eccetera non c'era nessun riferimento forte alla socialdemocrazia sicuramente no ugualmente i termini in cui avete discusso queste questioni sono i termini in cui discutiamo un po' in tutta Europa cioè il ruolo della globalizzazione della reazione della socialdemocrazia a questo tipo di globalizzazione si discute in questi termini pure in Germania io vorrei mettere magari riallacciandomi a Fratelli Orostelli il focus un po' su un altro punto perché qui posso solo dire di essere d'accordo sul 95% di quanto avete detto voi due prima vorrei mettere il focus un po' su un altro punto abbiamo detto infatti Fratelli Orostelli liberalsocialismo possiamo dire sì un'idea molto socialdemocratica cioè coniugare insieme le idee liberali e nella società e l'idea socialista nell'economia per metterla molto grossolanamente se andiamo a vedere più da vicino era questo anche il compromesso socialdemocratico come diciamo bacino sociale se prendo la SPD la SPD univa infatti il movimento operaio i sindacati in grandissima parte chi era sindacalizzato votava SPD i funzionari del sindacato militavano nella SPD anche se era un sindacato ed è un sindacato unitario ma c'era accanto a loro questa middle class questo ceto medio liberal infatti di idee molto liberali anche in questioni di riforma della società Brand vince nel 69 con lo slogan Osare più democrazia ed era tutta una riforma non solo di diritti sociali non solo più co-decisione nelle fabbriche espansione dello stato sociale ma era anche un'offensiva dei diritti civili portata avanti e si esprimeva anche nel corpo del partito che era esso stesso rappresentazione di questo compromesso social economico se vogliamo dove è finito questo compromesso oggi se guardate oggi i partiti socialdemocratici e socialisti l'operaio lo è andato a cercare nel gruppo parlamentare della SPD non ce n'è più neanche uno che viene dal mondo del lavoro nel senso non lavoro impiegatizio o insegnanti di scuola o avvocati ma fabbrica non ci stanno più i sindacalisti che erano sindacalisti che avevano iniziato loro stessi in fabbrica oggi qual è il tipico funzionario socialdemocratico poi candidato al Parlamento è uno che ha fatto l'università che ha studiato o legge una materia umanistica scienze politiche sociologia dall'università va direttamente in politica diventa assistente parlamentare di un deputato SPD se è bravo cinque anni dopo otto anni dopo si candida lui stesso è una carriera tutta lineare che non contempla più quell'altro mondo e possiamo dire si rispecchia anche delle istanze che i partiti portano avanti li abbiamo e li ha aiutato molto questa fase di ubriacatura dei mercati della globalizzazione eccetera che era ubriacatura e il resto in buona fede per moltissimi di loro persino Tony Blair sono convinto che lui credeva in questi effetti trickle down se il capitale prospera vorrai vedere che anche le classi lavoratrici ne beneficiano se lo governiamo bene non era un traditore nel senso che non ci credeva erano ottimisti della globalizzazione in quegli anni 90 erano convinti che la globalizzazione davvero offrisse benefici a tutti non l'ha fatto però socioculturalmente i nostri ripartiti si sono trasformati in questa fase e si sono trasformati nel modo di guardare anche il lavoro cioè chi oggi fa l'operatore ecologico cioè lo spazzino viene guardato anche dai nostri ripartiti come uno sfigato non più uno che si guadagna la sua vita con le sue mani che ha tutta la dignità di uno che si alza la mattina suda forte il suo stipendio e torna stanco la sera no è uno sfigato non è più il nostro punto di riferimento culturale lì abbiamo tutta la scissione cioè sono i partiti che hanno fatto la scissione dalla classe lavoratrice dalla classe operaia nel senso dei lavori più umili più duri eccetera contemplano magari il lavoratore altamente qualificato solo che quel operaio spesso non contempla più la SPD perché si senta ormai a un livello di tecnico con uno stipendio decisamente sopra la media e a altre istanze che non l'espansione dello stato sociale e quindi abbiamo un partito dei partiti che hanno sempre più messo al centro dell'attenzione quelle istanze di ceti medi liberal hanno portato avanti giustamente non fraintendetemi i matrimoni gay per esempio hanno portato avanti le questioni multietniche eccetera solo che buona parte di quelli che prima erano il bacino dei partiti socialisti socialdemocratici su questa linea di demarcazione si posizionano in maniera diversa abbiamo oggi due linee di demarcazione abbiamo quello che chiamano in scienza politica cleavage cioè le linee di confronto scontro nell'agone politico abbiamo sempre quella socio-economica detto rozzamente capitale e lavoro ma abbiamo sempre di più anche quest'altro che non è identica anzi fa così ed è quella infatti fra cosmopoliti e comunitaristi come dicono oggi in scienza politica fra chi dice sì la globalizzazione è un'enorme occasione per tutti noi e ne fanno parte i giovani qualificati che hanno fatto l'erasmus che viaggiano per l'Europa che parlano altre lingue si trovano benissimo in questa Europa poi abbiamo però delle classi impaurite che dicono no io voglio la mia piccola comunità possibilmente omogenea quindi l'immigrato non lo so se mi garba io voglio le tradizioni quindi questi mandrimoni gay ma si devono fare e un tempo infatti i partiti socialdemocratici riuscivano a parlare anche a quelle persone non a seguirli in tutto non è a dargli retta necessariamente però a parlargli questo sì oggi non più e questo ci spiega perché in aus in reale elezioni presidenziali l'86% degli operai hanno votato il candidato della destra dei freiheitlichen il populista l'86% ci spiega la Francia dove il fronte nazionale si marcia sul 20% fra l'elettorato generale marcia sul 35% e 40% è il primo partito operaio ci spiega al di là delle questioni in modo sta destra e sinistra per quale motivo il PD oggi a Roma vince nel primo e nel secondo municipio cioè le zone ricche della città e perde a Torbella Monaca dove un tempo la sinistra vinceva oggi primo partito 5 stelle secondo partito la Meloni i fratelli d'Italia e per farla adesso breve che siamo già in orario avanzato per me infatti tutti i nostri ragionamenti futuri devono concentrarsi anche su quello come si può ridefinire questo compromesso liberal socialista in termini che tenga insieme le questioni sociali e le questioni dei diritti e come si possa trovare un linguaggio nuovo che permetta anche di parlare a chi oggi non ci ascolta più grazie bene grazie naturalmente una tavola rotonda non richiede conclusioni perché per la complessità e diciamo la ricchezza dei temi che sono stati posti sul tappeto sarebbe velleitario immaginare di poter anche soltanto indicare una conclusione però credo che comunque un confronto serve perché serve intanto a chiarire i problemi e come diceva un noto epistemologo un problema comincia a risolversi quando si dà non la risposta ma la domanda giusta ecco io credo che un lavoro di questo tipo possa servire in questa direzione e di questo va dato atto all'istituto di Bagno e per esso va ringraziato il suo presidente Giovanni Mastrolio la nostra tavola rotonda si ferma qui invito i presenti però a trattenersi perché sarà seguita da un ulteriore dibattito sulla grande guerra tra letteratura informazione propaganda e satira moderata da Thierry Bissol che vedrà la partecipazione di intellettuali raffinati che ben conosciamo e che certamente sapranno attrarre la nostra attenzione grazie a tutti grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti